...davvero facendo divertire in questo giro, vedrete Wandong da Engels, con il numero 148 il corrido che arriva dall'Olanda, per lui già una top 10 al giro 2017, Sam Omen con il numero 147 dal Regno Unito, fra il UK, Thomas Groog ieri è stato fantastico, vinto che la tappa al Tour de France, Sapkus USA dalla Germania a Fongiol...